Un cordiale saluto a tutti voi da Stefano Tini, torna il programma La ricetta del benessere. 13 ottobre dell'anno di Grazio 2015, ricordiamo che in questo programma le categorie che prendiamo in considerazione sono 6 insalate, zuppe, minestre, pesce, centrifugati e frullati, infusi a te e frutta. Noi oggi vi diamo come ricetta del benessere il centrifugato verde. Allora, questi sono gli ingredienti per due bicchieri, un cetriolo, un mazzo di spinaci giovani, un grappolo di uva verde senza i semi, una mela verde e delle spezie. Veniamo alla preparazione. Lavate e mondate gli spinaci, poi tagliuzzateli grossolanamente. Sbucciate il cetriolo, privatelo delle estremità e tagliatelo a tocchetti. Sbucciate e affettate la mela. Versate il tutto nel frullatore, aggiungete i chicchi d'uva, poi frullate fino a ottenere un composto omogeneo. A piacimento insaporite con un po' di spezie e servite. Ricordiamo che, e qui veniamo alle proprietà, gli spinaci contengono minerali, vitamine e fibre in gran quantità. Sono molto utili per facilitare il transito intestinale. Dunque questa era la nostra ricetta del benessere per quanto riguarda questo martedì 13 ottobre del 2015. Ricordiamo sempre di abbinare il mangiar sano a una sana attività fisica. E proprio per questo motivo questa trasmissione è legata ad uno sponsor, Vigor Sporting Center, con piscine, palestre, sala benessere, chi più ne ha e più ne metta, dove potete smaltire i grassi che avete, dove potete insieme, integrando agli alimenti sani, fare una vita sana. È tutto per quanto riguarda questa trasmissione. L'appuntamento è per martedì prossimo. Ricordo sempre le ricette del benessere e Vigor Sporting Center, via Grotta di Grignia 100 a Roma, la tua palestra del benessere. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata con i programmi di Stapp Radio.